Gli eventi bellici in corso in Ucraina hanno indotto molti cittadini, principalmente nuclei familiari monoparentali con minori anche in tenere età, a fuggire dalla guerra per raggiungere il territorio della provincia di Pesaro e Urbino. In totale sono 654 i rifugiati, di cui 420 nelle città di Fano e Pesaro, ma si prevedono ulteriori e consistenti arrivi. Al momento si tratta di donne, anziani e minori, accolti per lo più da famiglie del posto. I numeri stanno aumentando giorno per giorno e devo dire che c'è la grande disponibilità della popolazione ad accogliere questa povera gente, povera gente che scappa dalla propria terra per raggiungere un po' per la sicurezza e per la propria serenità familiare. Per i cittadini ucraini, così come per le persone intenzionate ad ospitarli, ci sono delle procedure da seguire come ricordato ieri sera dall'assessore regionale Stefano Guzzi, ospite nel telegiornale Occhio alla Notizia. Questa mattina invece il questore Michele Todisco e il dirigente dell'ufficio immigrazione Antonio De Falco hanno illustrato nei dettagli l'organizzazione messa in campo dalla Polizia di Stato per la gestione delle pratiche. I cittadini ucraini godono dell'esenzione del visto per turismo, quindi tutti coloro che sono in possesso di un passaporto biometrico e hanno il timbro di ingresso nell'area Schengen possono permanere liberamente tutta l'area per 90 giorni ogni 180 giorni. Quindi sostanzialmente sono regolari sul territorio nazionale indipendentemente dal rilascio di un permesso di soggiorno. Tuttavia la comunità europea ha previsto per loro nel caso in cui vogliono permanere più di 90 giorni e il conflitto non vada verso una risoluzione la possibilità di un rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo. Per far fronte all'emergenza l'ufficio immigrazione ha predisposto delle aperture straordinarie dedicate esclusivamente ai cittadini ucraini. Sia per lo sportello di Pesaro che aprirà eccezionalmente il martedì e il giovedì promeriggio e il sabato mattina solo per gli ucraini e lo sportello di Fano presso il commissariato di Fano che farà un'apertura straordinaria di lunedì e aumenterà gli appuntamenti negli altri giorni dedicati martedì, mercoledì e venerdì. E il commissariato di Urbino che aumenterà gli appuntamenti quotidiani aggiungendo alcuni appuntamenti giornalieri per far fronte all'emergenza ucraina. Il commissario De Falco ha poi ricordato che gli ucraini che entrano in Italia devono eseguire un tampone anti-covid entro 48 ore e 5 giorni di autosorveglianza. L'unico obbligo che ha un cittadino che accoglie un extracomunitario in genere e quindi anche un cittadino ucraino è quello di presentare la comunicazione di ospitalità, comunicazione di ospitalità che va presentata all'autorità locale di pubblica sicurezza e quindi a Pesaro è il questore, alla questura di Pesaro da noi all'ufficio immigrazione, a Fano è il dirigente del commissariato di Fano e quindi va presentata al commissariato di Fano, per Urbino è il dirigente del commissariato di Urbino e quindi al commissariato di Urbino, per tutti gli altri comuni della provincia è il sindaco del rispettivo comune e quindi va presentata al comune e in genere sono le polizie locali che si interessano di questa ricezione. Il modulo può essere scaricato anche dal sito della questura dove è stata predisposta una guida doc, deve essere compilato dalla persona che ospita e corredato dal documento di riconoscimento suo e degli ucraini accolti. La questura ha fornito anche questo QR code che consente con l'utilizzo di uno smartphone di accedere direttamente alla pagina web dedicata.